A 69 anni dalla strage, Sant'Anna di Stazzema commemora i 560 civili, in gran parte bambini, donne e anziani, che il 12 agosto 1944 vennero trucidati da tre reparti delle SS. Alle celebrazioni, in ricordo delle vittime di quella terribile strage, che rappresenta una delle pagine più dolorose della storia italiana, ha preso parte, assieme ai sindaci dei comuni della Versilia, il ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza. Dopo la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Sant'Anna, il corteo al monumento ossario e la deposizione della corona di alloro da parte dell'autorità, è stato presentato in anteprima alla presenza del ministro il progetto Sentieri di Pace, percorsi nel Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema e realizzazione di impianti multimediali e interattivi nel museo storico. Il progetto, realizzato dall'Unione dei Comuni della Versilia, con fondi del Piano Integrato della Cultura Regione Toscana e che sarà inaugurato il prossimo 27 settembre, prevede appunto l'installazione di nuovi filmati, impianti multimediali e postazioni interattive presso il Museo Storico della Resistenza, con l'intento di migliorare la fruibilità dei percorsi espositivi, offrire a visitatori ulteriori livelli di approfondimento alla visita, potenziare l'offerta didattica, creare un maggior collegamento tra il museo e il territorio dove avvendono i tragici fatti e restituire una dimensione spaziale alla memoria e alla storia. All'interno del museo è possibile in particolare consultare bibliografie e filmografie sulle stragi e la Seconda Guerra Mondiale, assistere alla proiezione di filmati in più lingue che approfondiscono il contesto storico al tempo dei fatti, l'occupazione nazista, la resistenza e la liberazione in Toscana. La visita al museo raggiunge momenti più intensi nella saletta completamente dipinta di rosso, che evoca nello specifico la strage di Sant'Anna, in cui una nuova postazione touchscreen presenta materiale storico e una teca mostra gli oggetti ritrovati. Un luogo emotivamente intenso, in cui la forza della memoria diventa un messaggio di speranza che il visitatore porterà con sé. Gli interventi fatti al museo rientrano nel più ampio progetto Sentieri di Pace, che ha individuato sei diversi itinerari ad anello all'interno del Parco Nazionale della Pace, accompagnati da una cartellonistica esplicativa in più lingue. I percorsi daranno modo ai visitatori di scegliere di intraprendere autonomamente cammini di coscienza della storia di Sant'Anna e della strage. Stazema è medaglia d'oro al valore militare per tutti i sette comuni di Aversilia. Ha voluto l'Unione fare un progetto culturale e dotare questo museo storico della Resistenza, un museo regionale, di una strumentazione tecnologica innovativa attraverso il multimediale per facilitare il dialogo con i giovani, per collegare il mondo all'interno del museo insieme al mondo esterno, perché da questo sistema si possono vedere anche i luoghi della strace, sono luoghi commentati dalle persone superstiti, quindi è un progetto particolarmente emozionale. E all'ambizione, è un primo stadio di progetto, perché l'ambizione è di una sua implementazione. Si sta cercando di presentare un progetto alla comunità europea per avere ulteriori risorse, perché l'obiettivo finale nostro è quello di portare Sant'Anna nel mondo e non soltanto tanti cittadini a Sant'Anna, perché soltanto a conoscere queste storie forse cresce una sensibilità contro il crimine e contro il crimine all'umanità. È importante coinvolgere le scuole, gli insegnanti nel venire a visitare questi luoghi, perché appunto sono luoghi della memoria in cui si trasmette il concetto di quello che è avvenuto, l'analisi di quello che è successo in quegli anni e noi vogliamo che non succeda mai più. L'unico modo per farlo è trasmettere agli studenti, alle nuove generazioni, quello che è avvenuto anche con il coinvolgimento emotivo, venire qua e vedere direttamente, per percepire l'atmosfera, quello che è accaduto, la gravità di quegli eventi, l'efferatezza di questi crimini, anche per far capire che la guerra va odiata in tutti i sensi, perché le conseguenze sono sempre negative. Penso che sia importante soprattutto perché abbiamo avuto tanti anni di pace in Europa, proprio perché la pace sia stata costruita dalle generazioni che ci hanno preceduto, ma che questo ha un valore inestimabile, bisogna coltivarla, la pace e il dialogo, soprattutto perché queste cose non avvengano più. La cultura e la formazione sono fondamentali per un futuro di pace. Noi non abbiamo e non possiamo lasciare o delegare a qualcun altro un compito che è nostro, che è quello della formazione e del corretto rapporto anche con la storia e la conoscenza della storia. E poi guardare al futuro anche con dei mezzi tecnologici più avanzati, che devono essere disponibili per tutti, ma in particolar modo anche a chi lavora in questo settore, che ci sia un'adeguata formazione, perché è delicatissimo parlare di questi temi e pensare che questi temi debbano essere patrimonio di tutti, ma nella correttezza dei fatti e degli atti. Abbiamo sentieri di pace, abbiamo quello che avete visto oggi, un multimediale spinto in questo museo storico che abbiamo ricostruito in questi dieci anni e abbiamo trasformato, ma sicuramente il compito nostro, come di ogni buon amministratore, è quello di continuare a sollecitare le istituzioni perché ci siano vicini e ci diano dei sostegni, sostegni che comunque non possono essere qualche volta economici, ma lo devono essere quando è dovuto, ma sicuramente di vicinanza e di opportunità che in questi ultimi anni, devo dire, non sono mai mancati.